E adesso... Ci colleghiamo con uno dei volti più amati della televisione italiana che è la... lui è praticamente, diciamo, è il DNA della televisione italiana è appena stato a suo compleanno, il 22 dicembre scorso ha compiuto 91 anni è con noi, collegato da casa sua, e lo ringrazio per aver accettato questo invito il nostro, di tutti noi, pubblico italiano, Piero Angela Ciao Piero, buonasera, un abbraccio grande Ciao Piero Guarda, anche tu Luciana, Luciana ci sta ascoltando Sì, sì, temo di sì Tu vedi? Io sono appena uscito da 60 giorni di gesso, anch'io, perché mi sono rotto questo braccio Sia l'urna che il radio e una costola E un po' anche qui mi stanno... Ti chiedo scusa se mi vengo a ridere Adesso ho una macchina qui che mi tiene ferma un tutore Ecco, c'era ancora per tre settimane Quindi, cara Luciana, hai tutta la mia solidarietà Vabbè, allora... Sai qual è il problema, Piero? Il problema è che questa è l'unica cosa che ha in comune con te Per il resto siete molto diversi Sopra, rappresentate due ere dell'evoluzione molto distanti fra loro del genere umano Ecco Ma adesso stai bene però, sì? Sì, sì, sto bene, sto bene Uh, che bello... Tra l'altro, questa è caduta, me la sono fatta a Saxarubra Alla fine dell'ultima di registrazione della decima puntata del programma Superquark Web Che sta ora andando in onda, questa è la novità E siamo riusciti a finirla e poi sono caduto E quindi, vabbè... Però vedi che professionista, prima ha finito e poi è caduto, non come Luciana Bravo, Piero Eh sì, perché Superquark più è sbarcato su RaiPlay Perché adesso Piero Angela è anche su RaiPlay Quindi dei nuovi... Io credo di dover fingere grande entusiasmo, quindi lo faccio volentieri per RaiPlay Ma insomma, diciamo che certamente la fruizione della televisione cambia E quindi sei arrivato anche su RaiPlay, insomma, sulla piattaforma della Rai Beh, tu sai che molte cose si stanno spostando ormai online, come si dice Sì... Gli giornali in particolare, ma tante altre cose E quindi Superquark va a cercare il suo nuovo pubblico anche online Rimane il programma principale, naturalmente, che tra poco comincieremo a girare Ma questa è una cosa un po' speciale Tra l'altro anche, non so se tu hai esperienza del genere Ma è una cosa molto diversa Perché qui non è come dei programmi normali Tu fai una trasmissione, fai un programma Vai in onda Il giorno dopo si va a vedere l'ascolto Poi la settimana successiva c'è un altro programma Qui li abbiamo messi tutti e dieci in onda contemporaneamente Tutto insieme, la piattaforma E l'ascolto, lo si vedrà nel tempo Perché gli spettatori si accumulano Certo, sono cose destinate a durare Che cambiano completamente il modo di porgersi al pubblico E anche la fruizione da parte del pubblico del nostro prodotto Rimane il fatto che il contenuto rimane dirimente Insomma, quello che conta è quello che si fa Sì, e questo però ha un taglio un po' diverso Perché è breve, ha dato al computer, al telefonino Un super quark più di 15 minuti E ogni volta c'è un tema con variazioni sul tema E l'altra novità è che Oltre alcuni dei nostri tradizionali autori di quark Abbiamo altri 5 giovani Che si sono lanciati nella divulgazione Sulla online E tutti super laureati, dottorati E che si stanno rivelando molto bravi Bene, in bocca al lupo E complimenti anche per questo nuovo allunaggio Sulla piattaforma Senti Piero E' vero, mi ricordo, tu sei appassionato di mestoli Come si può vedere dall'inquadratura Ah dunque, questa qui Che vedi dietro Vedo che sono una piccola parte E' una collezione di cucchiai etnici in legno Sì E di mia moglie Abbiamo cominciato Quando vi siete sposati vi hanno regalato un servizio Questo oggetto dietro le mie spalle Adesso mi sposto un po' Sì, sì, no, tentano un carità Ecco, sì No, ecco E' un uomo trovato Nel Nepal tantissimi anni fa E' un oggetto d'arte E' un mestolo per il latte Perché sai, i cucchiai hanno un grande significato culturale Perché il cucchiaio vuol dire la minestra Certo La minestra vuol dire la zuppa La zuppa vuol dire gente intorno al fuoco Con il brodo della sera I legumi dentro E lì si parla Si chiacchiera Si scambiano esperienze Si sviluppa il linguaggio I giovani ascoltano I vecchi raccontano Ma vi rendete conto, Piero Angelo Cosa riesce a raccontarci di un mestolo? Ma vi rendete conto? Cosa vuol dire essere Piero Angelo? Piero Siamo nel 2020 E' una data che a me fa impressione Tu da ragazzo Anche a me Tu da ragazzo Riuscivi a immaginarti il futuro E se te lo immaginavi Te lo immaginavi simile a quello che stiamo vivendo? Al presente che stiamo vivendo? Dipende a che genere di futuro ci si riferisce Perché su 10, 20, 50 anni Beh, tu da ragazzo Un giorno ho incontrato Arthur Clarke Che era l'autore di Osizia nello spazio E gli chiesi un po' Come vede lei il futuro? E lui mi dice Sto scrivendo un libro Che si situa tra mezzo miliardo di anni E dico E com'è questo mondo? Lì si faranno trapianti di memorie Ecco, siamo molto lontani da questo Però sai, io ho imparato che Soprattutto nel nostro mestiere in televisione È difficile per vedere di 10 anni in 10 anni Quello che succede Però, detto questo Ci sono alcune tecnologie Che si stanno sviluppando straordinarie Naturalmente il digitale L'intelligenza artificiale Quella naturale Non troppo Perché non stiamo facendo rifosi giusto Senti, ma tu hai più fiducia Piero, hai più fiducia Nella politica o nella scienza? Non ho capito, sì o più? Fiducia nella politica o nella scienza Per cambiare, diciamo, le cose Beh, insomma Direi che La risposta è già nella domanda Come si dice No, sai cos'è il problema? È che La scienza Cerca Io ogni volta mi stupisco Perché Gli scienziati cercano di costruire Di trovare un accordo Verificano le cose E poi una volta che Hanno trovato Hanno scoperto Hanno inventato La cosa È condivisa Nella politica No, questo non esiste Hai ragione La seconda cosa È che Gli scienziati sono Proiettati nel futuro Perché è quello che vogliono scoprire Inventare Cambiare È insito Nella loro natura Nella loro curiosità I politici Come anche in fondo Gli imprenditori Hanno un visione Di breve termine Che è quella Del vantaggio Immediato Economico O Elettorale E quindi Manca la previdenza E la preveggenza E come diceva Un signore anziano Che io conoscevo Tanti anni fa Bisogna prevedere Per provvedere E prevenire E questo non si fa Senti Piero Di la tua lunghissima carriera televisiva A luglio hai celebrato Su Rai 1 I 50 anni dell'allunaggio Qual è il momento Più significativo Che hai vissuto Dal punto di vista professionale Ma che è coinciso anche Con l'aspetto umano tuo E' difficile da dire Perché Guarda Anch'io alle volte Me lo pongo Questa cosa Forse nella lettura Di qualche libro Ci sono due o tre libri Che ho letto Che mi hanno Aperto La mente E alcune persone Che ho incontrato Per esempio? Gli event Ma per esempio Ho avuto la fortuna Di frequentare Molto Il professor Edoardo Amaldi Che era Il più stretto collaboratore Di Fermi Con noi Abbiamo scritto un libro Ed era anche Una persona straordinaria Un uomo Di grande dirittura morale Ma aperto Sul futuro Disinteressato Dei fatti Condigenti Della politica Della economia E quindi Un uomo Anziano Perché quando lo conoscivo Io Era già un'ottantenne Ecco Quindi certe persone Un'altra persona E' stato Un ricercatore Beh anche Un'altra persona E' stato Aurelio Peccei Presidente Il club di Roma Che aveva E' stato uno Degli uomini Che più hanno Influito Il movimento Ecologista Con quel famoso Rapporto Delle MIT Sull'ambiente Oggi si parla Oggi si parla Tanto D'ambiente In termini così Drammatici Queste cose Si sanno Da 50 anni Assolutamente Ancora peggiore La situazione Ancora peggiore La situazione Tutto era già detto Tutto scritto Ogni volta Sempre che si scopra L'acqua calda Io ti devo chiedere Due cose Se posso Veloci Personali Una Volevo sapere Se quel gorillino Che hai sul cammino Era un giocattolino Di Alberto Quello il gorilla Che hai sul caminetto Dietro di te C'è un piccolo gorilla Volevo sapere Qual è? C'è un gorilla La tua Non ti impressionare Finto Un gorilla Sul cammino No 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 Era un piccolo oggetto Che ho comprato In una scuola Sì Credo in Uganda In Uganda Perché in Uganda Ci sono delle montagne In cui ci sono I famosi Gorilla di montagna Certo È vero Che ero andato a vedere E dei bambini Fanno queste cose Quindi Dai un piccolo contributo Per Per la scuola E per La paperella Invece certamente Era quella del bagnetto Ma Volevo farti un'altra domanda Piero Adesso abbiamo scherzato Prima con Luciana No Ma il fatto che Nel 2020 Una donna Insomma Giovane Ancora come Luciana A 55 anni Inciampi Cosa vuol dire Cioè che L'evoluzione L'homo erectus Voglio dire Non tutti riescono A reggersi Diciamo Su due gambe Evidentemente Non è ancora Un percorso compiuto Beh no Guarda lei È una donna Straordinaria Tu scherzi No Io volevo Un tuo consiglio Scientifico Per lei Se c'è qualcosa Che potevamo fare È proprio Magari Avessimo Tante litizzezze Hai visto Una donna intelligente Spiritosa Lo so Lo so Senti Te la posso far salutare Al telefono Posso passartela No ma Anche a me Anche a me Divertono I vostri battimenti Eh lo so Te la posso passare Senti Vuol dire Una cosa Sì dimmi Vuol dire una cosa La litizzetto Sì aspetta che forse Ti ascolta Luciana Sono qua Sono qua Pierone Ti sto sentendo Eccola Ti sta sentendo Prego Senti Io ho scoperto Rompendimi questo braccio Sì Che non riesco a fare Le maggiori cose Che si fanno normalmente Nella vita Sì Per chi non dire Cioè quello di vestirsi Sì Di sbucciare un'arancia Potreste Sì Tu anche con la gamba E il polso Sì Penso che avrai avuto Esperienza da E penso ogni volta Sì Quelle persone Che si trovano In modo permanente In questa situazione E alle famose Barriere architettoniche Che per chi sta bene Sono bozzi Eccetera Quando ci sei dentro Ti rendi conto Eh cambia Certo Non hai anche tu Proprio così Piero Ti rendi conto Di persona Però hai visto Piero come sta bene Come si è ripreso subito Ma perché lui Si è rotto tutto 40 giorni fa Io ero il 28 dicembre No Luciana Scusami Poi lui ha 91 anni Io ero 55 Esatto Quello è il punto Quello è il punto Ma guarda Io lo dico sempre Io La mia La macchina Ha 90 90 mila chilometri Ma il guidatore C'ha sempre 45 anni E invece Invece il problema Di Luciana È il contrario Che la macchina Ha 55 anni E la guidatrice Ne ha 190 Questo è il punto Piero Cosa prendi Piero? Prendi il Toradol L'occhi Quando ti fa male Cosa prendi? Va bene Cosa prendi? No voglio sapere Ma come cosa prendi? Le medicine Vuole sapere che medicine Prendi? Gli antidolorifici Ma 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 Scusami Il divulgatore scientifico Lo saprà bene No Prego prego Fate pure Due genitori E quattro nonni Due volte Tre volte al giorno Ah Sono la genetica La genetica La genetica La genetica Luciana Non c'è niente da fare Va bene Piero No senti Guarda Tu mi chiedevi prima Quello che succederà Attualmente Una delle grandi cose Che sta venendo fuori È la possibilità Di Come in una Collana Fare un montaggio Genetico Con una tecnologia Che permette Di sostituire I geni Sì Questa sarà Il caso di Luciana Insomma ci servono Tanti 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 pezzi Ecco Non so bene Come si possa Piccoli 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 Piero Io ti voglio dire Grazie di cuore Mi piacerebbe molto Riuscire a Così a ritrovare L'occasione Di altri collegamenti Con te Se ne avrei voglia Di tanto in tanto Senza disturbarti Ma è un grande regalo Che hai fatto Tutti noi Questa sera E noi ti seguiremo Con affetto Su Raiplay Con Super Quark Grazie di cuore Pronta guarigione A prestissimo Ciao Piero Luciana Sì Fallo venire da me Piero Angela Così mi racconto un po' Tutto il mondo di Quark Sì Mentre io sono qua Sdraiata Paralizzata a letto Brava Ti piace la trasmissione Come sta andando? Bene Bene Senza di me Vado a Dio L'hai detto tu Ciao Lucianina Tra poco Poi ti chiamo Grazie a Piero Angela Un abbraccio forte Grazie Piero Ciao Un abbraccio